sui primi frazionisti ma per Usain Bolt si fa volentieri un'eccezione sarà presente in questa finale dove la Giamaica schiererà Nesta Carter, Michael Freiter, Johan Blake e Usain Bolt insomma pezzi importanti per la Giamaica che schiererà in terza e quarta rispettiva vice campioni d'Europa la partenza è valida allora occhio all'Italia in seconda corsia la Giamaica in sesta gli Stati Uniti in quarta partiti subito forti gli statunitensi questo è Michael Toomey, il cambio con Simone Coglio, cambio perfetto direi per i azzurri che in questo momento si vedono passare all'interno da St. Kitts e Nevis lì davanti Stati Uniti e Giamaica sono più o meno appaiati questo è Emanuele Di Gregorio, il terzo frazionista azzurro, forza ragazzi adesso gli Stati Uniti e la Giamaica lottano per la medaglia d'oro l'ultima attrazione, Fabio Cerutti per l'Italia mentre c'è Elisa in volto che se ne va e c'è stato un problema per gli Stati Uniti non abbiamo visto gli Stati Uniti, hanno combinato un guai record del mondo, record del mondo 37-04 per uno Eusein Bolt che torna sul luogo del delitto dunque un record del mondo strepitoso per la Giamaica che non ha avuto neanche il riferimento degli Stati Uniti che hanno combinato un guaio nei cambi, probabilmente al terzo cambio grande risultato e arriva finalmente la chiusura col botto a questo campionato del mondo si attendeva al grande risultato cronometrico è arrivato proprio nell'ultima gara dell'ultimo giorno 37-04 per la Giamaica Nesta Carter, Michael Freiter, Johan Blake e Eusein Bolt velocissimi, più veloci della storia intanto la Francia sul secondo gradino del podio dunque un Cristofo Lemaitre che si porta a casa grazie a tutti